Il centro storico di Isernia non deve essere abbandonato. Questa è l'accorata richiesta del signor Giuseppe Viscovo, titolare di una delle attività commerciali ancora aperte in quella zona della città e che lamenta la situazione in cui versano alcune aree del centro storico ponendo un focus sulla gestione dell'attuale amministrazione comunale che, secondo Viscovo, si occuperebbe soltanto di alcune zone di Isernia trascurando le altre. Preoccupante lo stato attuale del ponte Cardarelli. Io mi reputo un suggeritore alle amministrazioni, a chi per esso sia, abitando un poco più sotto dal ponte Cardarelli che poi è Ponderla Precce, lì adesso che comincerà a piovere si allaga tutto perché ci sono dei buchi di scolo, di drenaggio che non vengono mai praticamente risollevati in quanto sono otturati. Andando più avanti a 50 metri, vi prego poi con le immagini di farle vedere bene, tutti gli alberi si sono tutti inclinati al 50% partono dei siluri che sono le ghiante che cadono a terra e vanno sui parabrezzi delle macchine. Io col mio doblò ho rotto il parabrezzo proprio ieri mattina che qua una pietra di quella lì è venuta a fine sopra. Ma poi c'è il ritiro dei cinghiari perché le ghiante, voi sapete, è un prodotto buono per i cinghiari e quindi vanno a mangiare lì ed è pericoloso di notte camminare su quella strada lì. In pena Giuseppe Viscovo, così come altri commercianti della zona, anche per l'attuale emergenza sanitaria che come risaputo sta mettendo in ginocchio moltissime attività commerciali, soprattutto del centro storico di Sernia, tra DPCM e restrizioni che limitano drasticamente gli incassi. La crisi ci sta, i piccoli stanno soffrendo, le partite IVA sono destinate a morire, si chiama morte immediata. L'appello che io dico ai nostri politici comunali, provinciali e regionali che si interessassero delle 730 piccole aziende nella zona perché per fine anno chiuderanno e non è giusto che i contributi vanno a finire solo a chi che sia perché chi non ha potuto pagare durante la pandemia da marzo ad oggi, è chiaro che è un malpagatore, quando si rivolge ai 5.000 euro che toma mise e ai 1.000 euro non te li danno perché chiaramente tu dici che prima non hai potuto pagare, poi chi non ha potuto pagare le cartelle prima di marzo che le va a pagare a dicembre con tre volte tanto, quindi assolutamente no. Allora io dico che questo Covid va combattuto, il ristoro subito dovrebbe arrivare immediatamente ma non solo a me, a tutti quanti, se non qua veramente si finisce nella bara o nel baratro.